Ecco, avete sentito cosa ha detto Ignazio Abate? Io avevo cercato appunto di, non metterlo in difficoltà, ma cercare di far capire quello che aveva detto lui qualche giorno fa, dopo il congresso, i numeri e dovremo vedere come vanno le cose, perché chi è con me è con me, chi non è con me, non è con me. Io devo dire che certi personaggi che noi ci aspettavamo di vedere non c'erano. Però io mi riprometto di riparlarne, chiaramente domani perché abbiamo anche altre interviste, a chi soprattutto è stato eletto il coordinatore, il segretario provinciale della provincia di Ragusa, nella persona della signora Aiello che è stata assessore con il sindaco e che nello stesso tempo, dice non c'entra niente, è la suocera della consigliera Caruso, vicepresidente del consiglio di Ragusa. Quindi là le divisioni, le proporzioni sono ben precise, eccola vedete mentre parlava per un attimo, ma domani avremo l'intervista, ce l'abbiamo oggi, ma non ve la possiamo mandare in onda perché sennò abbiamo fatto un telegiornale solo con le interviste dell'epocazia cristiana. E cercheremo anche di capire, questo è importante, cosa è accaduto al comune di Ragusa, perché le ripercussioni probabilmente ci saranno, non immediate ieri e oggi, ma nei prossimi giorni ci saranno sicuramente. Allora aspettiamo e affrontiamo di nuovo l'argomento domani. Invece voglio parlarvi di munnizza, di spazzatura, perché intanto un paio di cose. Domani c'è una conferenza stampa alla prefettura con il prefetto del questore che ci faranno vedere una iniziativa che fa riferimento alle discariche abusive che sono praticamente in tutta la provincia, non sono regolari, sono abusive, la parola stessa lo dice, ma il questore ha iniziato una specie di ricerca di queste con gli uomini della polizia e domani ci spiegherà come intende farle sparire, probabilmente chiedendo ai sindaci di muoversi. L'altro discorso è quello dei inceneritori. Il Movimento 5 Stelle si lamenta del fatto che non abbiamo fatto la Siracusa Gela, quindi da Modica a Scicli, è venuto a Ricò in un congresso, in un convegno aperto, anzi un consiglio comunale aperto a Scicli e ha detto abbiamo forse 180 milioni, che chiaramente non basta, ci vogliono 500 per fare il tratto fino a Scicli, però secondo me questa cosa non interesserà più a nessuno. Ma il Movimento 5 Stelle dice guardate, se andiamo a vedere i soldi che dobbiamo dare per il ponte e i soldi che dobbiamo dare per gli inceneritori, potremmo fare la Siracusa Gela. Non lo so, perché per gli inceneritori, io ho parlato con tecnici e dico che se non lo facciamo siamo in qualche modo dei colpevoli. Poi Lega Ambiente potrà dire quello che vuole, giorno 1 c'è un convegno che si chiama, questo sarà la conferenze, libero consorcio, via del Fante, Sicilia Munnizza Free e poi ne parleremo con Claudio Conti. Però non c'è dubbio che a Palermo la spazzatura l'hanno fino a qua e noi mandiamo la spazzatura fuori e la Regione non ci dà più quei soldi che ci aveva promesso nelle elezioni precedenti per mandare la spazzatura fuori perché noi non avevamo più dove mandare annelle discaliche chiuse, morta santa anastasia eccetera eccetera. E quindi vedremo cosa fare, io sono più per l'inceneritore perché secondo me in qualche modo questo problema lo dobbiamo risolvere come fanno in tutta parte d'Europa. C'è un problema di sanità, i medici lo sappiamo, si sta cercando di prendere qualche medico straniero che avrà un mese di preparazione, almeno per vedere se qualche cosa della lingua la capisce, non vorrei che mentre quello parla turco e noi parliamo italiano sa che il povero paziente è come se la passa. Però non c'è dubbio che ci sono delle situazioni drammatiche, è stata una denunciata dal sindaco di Pozzallo, Pozzallo ha più di 20 mila abitanti, è una grossa città, l'unica della provincia di Ragusa sulla costa, ma è una città molto bella, io la apprezzo moltissimo e il sindaco dice è mai possibile, siamo rimasti senza guardia medica, ora è una città di 20 mila abitanti, senza guardia medica nei giorni festivi ed andare a denunciarlo ai carabinieri. Questo è il servizio di Giovanna Canizzaro, ma c'è anche la risposta dell'ASP, sentite.